buonasera buonasera a tutti ciao bridges of light come state buonasera roberta buonasera lei è stata prima a scrivere buonasera alessio buonasera alessia roberta desi ciao ragazzi buonasera nelisa carla angelo roberta cristina sarah patrizia angela mamma mia quante siete ciao buonasera buonasera a tutti ci stiamo preparando per le feste vero scrivetemi chi di voi ha già messo l'albero di natale che a casa ai gatti che distruggono gli alberi di natale sono curiosa di sapere quante belle sono i vostri alberi sicuramente molto più bello di questo mio finto anche io piano piano sto allestendo la casa bella mi piacciono le feste roberto merito il premio di essere stato la prima va bene vediamo che premete arriverà buonasera antonio patrizia io piccolo il mio albero bene bene piccolo ma ce l'hai bellissimo sarà albero già fatto e già distrutto dal gatto io vi ho chiesto perché adesso in giro ci sono tante post anche su facebook dei gatti che si aggrappano agli alberi che mangiano tutto buonasera buonasera tina fabrizio roberta stepania buonasera buonasera allora cosa facciamo questa sera ho pensato di fare un po di tutto un misto che arrivano diversi messaggi magari arrivano i trapassati magari arrivano le guide angeli non so in quale modo arriva io a dicembre di solito faccio queste serate misti per poter accontentare più persone sia presenti sulla terra che anche quelli che stanno nel cielo allora vediamo cosa salta fuori invece preparatevi a tutto non so cosa succederà io intanto comincio ad accendere la mia candela portando il mio pensiero al mondo dello spirito a tutti i vostri cari anche miei perché vengono ad aiutarmi allora buonasera 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 ciao come faccio sapere chi è la mia guida chi ti guida ah teresa vediamo se magari questa sera arriva la tua guida ok allora vediamo cosa succederà che bello in rosso sì grazie grazie sento queste feste natalizie allora pensavo di mettere un pullover con babbo natale magari esagero un po ma vabbè chissà se magari mi vedrete poi apparire su facebook con pullover con le renne eccetera ok piacere silvia ciao silvia piacere giovanna ciao catia tutti ciao 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 allora vi ricordo che questa sera noi parleremo di tutto e di più facciamo vari tipi di contatti e vi chiedo gentilmente come sempre di scrivere quando inizio di scrivere soltanto che scrivono soltanto coloro che cominciano riconoscere i loro messaggi e le persone che arrivano dal mondo spirituale oppure non lo so le angeli perciò ascoltatevi perché vi possono tirare in questione e possono chiamare qualcuno di voi magari chiamerò qualcuno come sempre usando le carte chi mi dovete dare i numeri da 1 a 45 vediamo cosa succederà buonasera 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 che bella che bell'umore natalizio che ho non lo so io tutto il dicembre di solito sento moltissimo natale allora allora ascoltiamo il mondo spirituale e vediamo vediamo che arriva e che compito mi daranno perché io non so ancora quello che succederà mi affido al mondo dello spirito al mondo spirituale e loro diranno quello che devo fare o quello che dobbiamo fare ok bene mettiamoci tutti quanti in ascolto ok tutti quanti in ascolto e vediamo allora cosa cosa devo fare cosa devo fare mi dicono di prendere la carta e penna per questa volta perché vogliono mandare un messaggio io credo dalla guida da qualche guida allora che che sta cercando chi io qui ho una guida spirituale e mi dice di trovare qui una persona che ricorda che il suo nonno che non c'è più si travestiva proprio da babbo natale il nonno quando tu eri piccola piccola sì mi sembra che mi sta parlando in femminile eri piccola ma non eri sola io sento anche un fratellino io sento anche un fratellino e il nonno era già grande e voi eravate piccolini magari quattro sei anni così e qualcuno sento una guida spirituale però mette in questione anche il nonno e mi stanno dicendo che la famiglia viveva lombardia lombardia allora scrivetemi qualcuno soltanto chi si riconosce che ha una donna un fratello e che ricordate di un nonno chi si travestiva proprio da babbo natale ok bellissimo direte sanuto uno spirito nazionale mi diceva che voleva stare a casa mia bene ho proprio bisogno adesso chi si ricorda di questo nonno perché c'è una guida spirituale che vorrebbe dare il messaggio non c'è il nonno qui non c'è il nonno però sento la guida mi sta dicendo che la persona che deve ricevere il messaggio dopo è arrivato ancora un fratello perciò non erano soltanto in due ma perché è arrivato dopo magari perché il nonno se n'è andato e non ha visto nascita di uno dei fratelli scrivetemi per favore se qualcuno di voi riesce a riconoscere questo signore e dice che qualcuno dei bambini lo ha riconosciuto perché lui fumava e ha sentito da questo babbo natale odore di sigarette che fumava nonno e così è stato scoperto è interessante una storiella natalizia molto interessante magari deve arrivare questa persona magari deve ancora arrivare questa persona in diretta perché io sento proprio questa lombarda lombarda mi sta dicendo lombarda continua ad insistere continua ad insistere mi fa vedere la guida che la persona che deve ricevere il messaggio dice che era una persona comunque molto razionale che ha aiutato molto i propri fratelli anche a livello finanziario anche a livello finanziario non avevate un nonno che vi faceva dei scherzi di babbo natale ok allora io devo capire una cosa perché me lo fa vedere mi dice che il mese di novembre è molto importante per chi sta ascoltando il mese di novembre o può essere un compleanno o magari al nonno se ne è andato a novembre ma comunque giriamoli attorno perché mi dice scorpione io non credo che il mondo si intendeva di scorpione ma magari la guida sì scorpioncino ok scorpioncino magari qualcuno di voi o uno dei vostri fratelli o uno dei vostri fratelli io devo assolutamente dare questo messaggio perché io sento fortemente questa questa presenza della guida e che mi sta portando questo nonno allora facciamo una cosa io adesso darò il messaggio darò il messaggio per questa signora che deve essere qui in diretta magari non sei ancora riconosciuta avete due fratelli ancora sicuramente siete in tre siete in tre in famiglia e io così con la guida poi novembre e mi fa vedere una cosa la guida la guida mi fa vedere una cosa che la persona che deve ricevere il messaggio mio nonno è del 16 novembre Anna ma tu puoi riconoscerti per favore di che tu conosci il nonno che lui faceva queste scherze di Natale che fumava che si poteva proprio riconoscere il suo il suo odore era proprio riconoscibile e che ci sono altri fratelli in famiglia mi piacerebbe Anna se mi rispondi grazie mille e allora così capisco se stiamo con te perché sta parlando proprio di novembre Anna non mi ha ancora scritto allora la guida sta dicendo che la persona che deve ricevere questo messaggio ha avuto un problema con la mamma e io credo che però il nonno però il nonno non il nonno fumava era un tipo scherzoso Anna ma hai anche altri fratelli? perché è importante è importante mi rispondi per favore subito con un messaggio su tutte le mie domande così so che devo dare un messaggio a te e poi sta nominando la tua mamma la tua mamma non so se è un nonno mater sì tre eh ok 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 tre perché sento che tanti per me più di due è già tanto ok più di due è già tanto allora Anna ascoltami c'è qualcosa legato alla tua mamma mi sta parlando se nonno materno ok perché dice di prendersi cura una dell'altra io cerco di capire perché me lo sta dicendo perché sento che c'era un periodo che qualcuno di voi non stava bene e dice proprio prendersi cura prendersi cura non staccatevi una dall'altro perché la tua guida vuole tanto farsi conoscere perché ti aiuterà a sviluppare il tuo dono la tua capacità di guarigione e di entrare in contatto con il mondo spirituale nonno sta dicendo che è bello il mondo spirituale ciao Slavi legge Cristina allora Cristina Ballo mio nonno era nato a novembre era scorpione così come io mio fratello mio padre mia nonna ma sono entrato ora in diretto si fumava molto mia mamma è morta un anno fa era scherzoso tre fratelli ok mi chiedo due sorelli uno zio che scherzava sempre io sento comunque il nonno materno il nonno materno che sta parlando della mamma prendersi cura della mamma e che guida aiuterà tantissimo di lavorare con la guarigione dice che hai delle mani d'oro e bisogno comunque scherzare fare qualche scherzo di Natale per i familiari per i familiari a me piace il studio il mondo spirituale perfetto Anna io sento comunque che io sono che io sono con te mi manca qualche informazione però credo che sono sono lì io ringrazio tutti che ha che avete scritto però io sento che anche scorpione quella che parlava era proprio la nascita di questo nonno che è arrivato però proprio scorpione perciò Anna per te c'è una guida me lo hanno già detto che ho delle mani di guarigione ok perfetto Anna ascolta per favore quello che vuole dirti la tua guida ok amata creatura le tue mani sono pieni di luce che creano un ponte e prendono delle energie dal mondo dello spirito per poter aiutare il prossimo o amata creatura prendi cura dei tuoi familiari prendi cura dei tuoi fratelli aiutali nel bene e nel male siete una famiglia forte e non dovete spezzarvi o amata creatura tenetevi tutti quanti insieme soprattutto per queste feste natalizie che stanno arrivando fai qualche scherzo coinvolgerli in un gioco sentite bene questo spirito natalizio e divertitevi come dei bambini così anche noi che viviamo nel mondo spirituale gioiamo insieme a voi come i tuoi familiari come il tuo nonno che vi piaceva tanto scherzare e allora in questo con le vostre risate con la vostra spensieratezza riempirete le vostre case dell'energia di guarigione dell'energia frizzante l'energia di gioia quello che serve per poter iniziare bene il nuovo anno vi aspettano diverse sfide o amata ma queste sfide porteranno soltanto il bene perché attraverso le sfide voi crescerete e riuscite a riconoscere tutto il vostro potenziale aiutate uno l'altro nei momenti di presa delle decisioni nei momenti più difficili non fate così che i vostri fratelli rimangono sole nei momenti di difficoltà sia sempre tu amata prima a ricordarli di essere tutti quanti uniti e ricordati amata del tuo albero genealogico perché come albero di Natale deve essere illuminato deve essere festeggiato deve essere riconosciuto amata anche chi ha piantato questo albero per voi pregate ai vostri cari antenati perché vi coprono sempre le spalle sono come gli angeli che stanno attorno a voi per darvi il loro prezioso aiuto di avere la loro voce ancora attraverso la voce vostra e avere le vostre mani per poter aiutarvi ricostruire nella vostra famiglia una casa di vera felicità accendete le ghirlande e questo sarà la luce che entrerà nelle vostre case ma illuminerà anche noi che viviamo nel mondo spirituale così le feste entreranno in ogni famiglia e i più piccoli amata saranno molto contenti da poter partecipare con gioia alla grande riunione familiare wow un bel messaggio natalizio allora accendete le luci e alberi e siete tutti uniti bello wow bene Anna tanti auguri a te e alla tua famiglia adesso vediamo cosa cosa hanno preparato e mi stanno parlando delle mie carte sempre da 1 a 45 sì da 1 a 45 devo trovare un nome devo trovare un nome grazie a te Anna un nome tra tutti quanti perciò scorro un po' dietro e chiedo a qualcuno di voi di darmi il numero solo a chi chiedo io per favore non scrivete tutti quanti solo a chi do il compito solo a chi do il compito allora scorro 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 e qui Laura De Vincentis Laura ci sei? io ti chiedo per favore di scrivere un numero da 1 a 45 entri in contatto con il mondo spirituale no solo Laura che mi scrive gentilmente e così dammi per favore il numero dammi per favore il numero Laura De Vincentis 27 bene grazie Laura e adesso prendo il mio mazzetto e vediamo chi ci ha ispirato perché stai attraverso la carta tu stai prendendo il contatto con il mondo dello spirito io interpreto soltanto la carta 27 adesso vediamo se è un uomo se è una donna ecco ho trovato la carta la foresta la foresta qui vedo l'albero vedo l'albero che per me è l'albero genealogico sono tanti rami ascoltatemi perché è un contatto per qualcuno di voi con l'aiuto di Laura che ha scelto per voi la carta io sento qui arrivo di una signora una signora che mi fa vedere la notte è trapassata di sera tarda o di notte sento molto l'energia materna ma secondo me è già nonna io sento che questa mamma mamma nonna ha avuto diversi figli magari non so cinque sei erano tanti figli otto comunque tanti tanti figli sento che il suo trapasso era legato alla mi dice mancanza del respiro sento proprio che faccio un po' fatica a respirare attorno a lei c'erano le persone quando le trapassava e questo trapasso proprio l'anno proprio aspettava aspettavano di notte si dice che stavano vicino a me vicino il letto perché sapevano che poteva partire da un momento all'altro e dice che c'erano anche i figli che arrivavano da lontano e lei è contenta comunque che c'erano io credo che c'erano tutti perciò era un trapasso consapevole un trapasso un po' lungo un trapasso che ha portato la tristezza ovviamente alle persone ma dall'altra parte è stato tutto è stato tutto così naturale così leggero e le persone erano già preparate per questo per questa situazione che sì hanno pianto sì però con la leggerezza perché la mamma ormai ha vissuto ha vissuto parecchio e se n'è andata all'età magari attorno a 90 anni un po' meno ma a 85 passa comunque siamo lì mi sta portando l'attenzione su questa scritta qui è scritto il bosco il bosco mia nonna, 5 figli, 4 femmine, un maschio è morto intubata a 83 anni ok Patrizia ascoltami per favore e anche le altre questa signora mi sta dicendo mi sta facendo vedere le sue mani vedo l'anello di matrimonio un anello un po' consumato mi dice che il suo il suo marito lui è trapassato prima di lei e mi sta parlando anche di un fatemi capire non so se ho capito bene come fosse c'è un fratello che è entrato nella famiglia in senso che non era il figlio di lei un figlioccio non so come si chiamano come fosse un entrato da parte di non so magari di marito magari da parte del marito c'era un figlio credo ok c'è una storia un po' particolare nella nella famiglia io spero di aver interpretato bene un nuovo ramo dice non è mio figlio però l'ho preso come il mio figlio mi sta parlando del della casa della casa e anche dell'eredità perché la casa è rimasta in eredità è rimasta in eredità mia nonna ha cresciuto mio fratello allora vittoria ok mia nonna cinque figli di cui uno ha adottato perché figlio del marito ok però guardate che anche altre altre evidenze devono corrispondere qui stiamo parlando della della signora che ha non nessun figlioccio ok patrizia va bene però ascoltate le altre da cinque figli o magari di più la signora che quando trapassava le mancava il respiro ma il trapasso era sereno verso verso la notte verso la sera perché mi sta portando attenzione a questa luna e che le persone erano pronti a questo trapasso e che in famiglia è entrato questo figlio debora mia nonna 84 anni cinque figli erano tutte attorno a lei figli nipoti il nonno è morto prima di lei aveva un anello di 25 anni al matrimonio ha allevato un figlio di un cugino ok debora qua ci sono tante corrispondenze patrizia mi hanno 97 anni e 10 figli gli altri arrivano da lontano amavano tanto mio marito e la casa è rimasta a noi però è morte di giorno debora ok grazie patrizia ok debora io sento molto non lo so se tu lo sai in chiaro della giornata trapassata trapassata la tua nonna 5 figli e mi risuona poi questo anello questo matrimonio le continua a toccarlo debora è mancata di sera è mancato il respiro grazie mille io sono con te debora grazie ecco perché non è che mi racconta altre cose dice che con questo dovrebbe essere riconosciuto perciò è per te cara debora la nonna ti sta dicendo che nella vita a volte bisogno fare anche sacrifici per poter dare una mano a qualcun altro sia sempre disponibile l'anello ha regalato a me sia sempre disponibile per esigenze di altre persone soprattutto verso la tua famiglia lei dice che tu sei una donna preziosa che ha ereditato dal tuo albero genealogico tutta la generosità è un senso materno è un senso materno che non necessariamente deve essere madre di tutti dei tuoi figli ma comunque sei una persona con un grande cuore dici di non aver mai paura dire alle persone che meritano o quali tu senti veramente di dire ti voglio bene le persone devono sentire queste parole non si apriva delle emozioni verso le altre abbracciali sta lì vicino lei dice che tu sei una una ragazza meravigliosa non posso dire che sei stata privilegiata in qualche senso dalla nonna però ti voleva tanto tanto bene e dice il senso della famiglia avere la grande famiglia quello che augura anche a te di avere grande famiglia tutta felice e trovare il tuo amore dice l'amore nel tuo cuore non deve mai spegnersi qualsiasi cosa può succedere nella vita regala il tuo amore anche alle altre persone a chi manca e dice non arrabbiarti quando le persone ti offendono di solito si arrabbiano o si offendono coloro a chi manca amore perciò invece di arrabbiarti mandi al loro amore e dice che le vuoi bene e cerchi di dargli una mano di riconoscere i loro lati positivi ah bene lei sta dicendo che manda per te e per tutti i familiari tutte le sue preghiere bene che bella questa nonna nonna mamma ok e grazie a Laura che hai dato il numero 27 abbiamo fatto un bel lavoro bravissima ok Deborah è verissimo grazie la penso sempre fantastico bene allora andiamo avanti visto che ci sono delle varie sorprese stasera e vari sorpresi no una sorpresa scusate stasera un po' confondo gli articoli allora scusate credevo che la medianità comprende anche comunicazione con altri esseri oltre trapassati la mia mamma è deceduta sette mesi fa se un messaggio anche per me ringrazio ieri sarebbe stato il suo compleanno e l'ha sognata mia amica cara Lalli guarda a me piacerebbe molto portare i messaggi a ognuno di voi ma io adesso in questa diretta visto che non abbiamo molto tempo io apro le porte nel mondo dello spirito e aspetto chi arriva e cosa vuole dire e a chi che possono essere le guide che possono essere trapassate noi abbiamo già ricevuto stasera il messaggio da una guida magari arrivano anche le altre perciò la medianità comprende anche comunicazione con altri esseri e non solo trapassati questo è vero è quello che stiamo facendo adesso bene adesso chiedo chi vuole venire a parlare chi vuole venire a parlare e mi fanno prendere la mia tavola prendere la mia tavola col mio specchio nero che mi piace tantissimo perché ogni tanto mi fa vedere qualche qualche immagine di qualcuno o il mio pendolo perché con questa tavola lavoro con il pendolo e adesso dal mondo dello spirito dovrebbe arrivare un nome dovrebbe arrivare un nome e vediamo e vediamo chi arriva siete pronti per darmi un nome ok bene allora andiamo possiamo cominciare dici di sì e allora cominciamo vai il nome la prima lettera del nostro ospite prima lettera del nome del nostro ospite è a a ma io sento dentro il nome perciò può essere a l sento proprio alessandro alessandro sì sei un uomo sì non alessandra ma alessandro ok io questo nome è proprio sentivo già dentro volevo confermare e adesso guardo se c'è qualcosa che mi fanno vedere dentro nello specchio ok questo io sento questa sì questo alessandro alessandro sì questo signore alessandro che sento che è arrivato per per la figlia per la figlia io sento che è un papà e un papà potrebbe essere anche il nonno alessandro mi dice che non è trapassato tantissimo tempo fa tantissimo per me dieci anni io da dieci anni in su ma non sento ancora il non sento ancora anni quanti anni sono passate non mi dici perché si sofferma parlare che è trapassato attraverso cancro io sento il cancro perciò abbiamo qui alessandro che è trapassato con cancro ok sento che era un papà percepisco che viveva da qualche parte dove il caldo perché mi fa vedere il sole mi fa vedere il caldo io sento l'odore del mare magari non proprio lì in questa città ma molto vicino perché c'è proprio qua questa aree è un po' salata marina alessandro ale o sandro qualcosa del genere può essere che non è proprio il vostro il vostro papà fatemi sapere se conoscete questo alessandro che cerca che cerca di comunicare alessandro cancro io tra l'altro conosco uno ma io non credo che è lui no io non credo che è lui perché perché deve arrivare per me non credo allora danni mio papà si chiama alessandro è trapassato tre anni fa danni potresti per favore confermare se è trapassato con cancro cancro perché io sento proprio cancro e sento quest'aria un po' marina perciò o lui che viveva al mare o magari qualcuno di voi che abita vicino al mare non lo so deve essere un riconoscimento con questo con questo bell'odore che mi manda questo profumo marino allora danni sto aspettando da te la risposta si una forma al fegato ma non era consapevole però adesso lo sa vediamo danni se è lui poi sandro mio zio suo nome alessandro ok bene mi sta dicendo che comunque sta continua a dire papà papà mio zio alessandro si chiama sandro si ho capito danni mi puoi dire per favore se c'è qualcosa legato al mare o lui che abitava vicino al mare o tu sei da qualche parte al mare perché è importante questo dettaglio questo proprio odore del mare salato ok valeria problemi al fegato al mare gli piaceva piaceva andare al mare mi piaceva andare al mare sogna il papà del mio compagno sandro venezia quattro anni fa trapassato per cancro facciamo una cosa facciamo una cosa io chiedo a questo gentile alessandro alessandro dicendo tre anni fa cancro intestino io abito al mare a una figlia ok allora io chiedo a questo alessandro perché vorrei un po sfruttare l'occasione della tavola di dare una parola una parola che può in qualche modo far riconoscere la sua presenza che qualcuno di voi riconoscerà la parola chiave caro alessandro puoi darci per favore una parola chiave sì una parola chiave cosa vorresti dire che ti possono subito riconoscere non so un nome un qualcosa di importante un qualcosa di importante allora 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 i Is, is, ma, is, is, ma, is, ma, is, ma, magari non è molto esperto. Is, is, ma, is, ma, is, ma, is, ma, se io, sembra un nome, non capisco, Ismail, Ismail, c'è qualcuno che conoscete con un nome di questo Ismail, ma ho capito bene, Ismail, ma è un nome, Ismail, pensate che cos'è che potrebbe, che potrebbe essere, perché sta dicendo un nome di genere? Mi puoi dire, per favore, il nome della persona per chi sei arrivato? Sei Alessandro? Sì, mi puoi dire il nome della persona per chi sei arrivato? Allora andiamo a dunque, andiamo a dunque. Allora, 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 All c'è qualche Alessia qui, Alessia, c'è un'Alessia, non lo so, magari da questo Alessandro salta fuori il nome anche Alessia, che può essere, non lo so, una figlia o qualcuno, perché magari vuole dire ad Alessia qualcosa, e poi questo nome strano Ismail, Alessandro è il mio compagno, io sono Alessandra, sì Alessandra, Alessia, non Alessandra, Alessia, Alessia, Alessandra, no Alessia, sì Alessia, allora mio marito si chiama Alessandro, il papà è morto, ti dico ancora una cosa, se il mio diffuso, mio cugino si chiamava Alessandro, sono figlia di Alessandro, ma mio papà è vivo, no, ah ok, ah Alessia, allora aspetta, 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 Alessia, sono figlia di Alessandro, ma mio papà è vivo, rimane però, aspetta un secondo, conosco, conosco un bimbo piccolo che si chiama Ismaele, ma dai Ismaele, aspetta, un nome raro, ok, devo vedere perché, ma Alessandro non ti dice niente, Roberto, ah Roberto, io conosco un bimbo piccolo che si chiama Ismaele, ok, aspettate perché adesso sono proprio curiosa, si chiama Ismaele e il nonno Alessandro, ma sono entrambi qui, ok, ok, vivo, ok, sì, il nonno Alessandro è vivo, ok, allora, però qui, io viventi, sì, sì, ho capito, però, allora, Maria, ho perso la connessione, ma la mia figlia si chiama Alessia e mio cugino Alessandro è mancato diversi anni fa, 27 anni, in seguito di un incidente, no, no, allora, ricapitoliamo tutto, io sentivo il nome che mi ha dato un signore dal mondo spirituale, ok, un signore dal mondo spirituale, ho sentito il nome Alessandro, però io non ho detto che magari lui si chiama Alessandro, mi sembrava perché è da lì che mi è arrivato il nome Alessandro, poi ho sentito, ok, papà, poi ho sentito, mi ha fatto vedere anche il nome Ismael, mi sembra, poi c'è un Alessia e tutto gira attorno, poiché questo signore è trapassato con cancro, allora, questa, la signora che mi ha scritto, Roberta Garignani, chi conosce Bimbo Ismaele, che è il nonno, sì, però, se c'è qualcuno, non lo so, che è morto di cancro un signore, perché io sento qua il signore che è trapassato in questo modo, però no, non credo, io devo essere più, no, io sono sicura che è da lì che sta arrivando, no, è proprio il signore Alessandro, lì mi stanno dicendo, no, io sono Alessandro, e io sono Alessandro, io sono Alessandro, e non, è un trapassato, è un trapassato, Allora, vediamo altri dettagli, questo signore che è arrivato da lì, io sento questo cancro anche abbastanza, anche abbastanza veloce, mi dice che, mi fa vedere l'ospedale, mi fa vedere il letto dell'ospedale, io sento le punture che dovevo fare anche a casa, sento le punture legate a chemio, a chemio, sì, faceva chemioterapia, proprio passava tanto tempo in ospedale, lo sento che arrivavano persone a trovarlo, e lo portavano fuori, mi fa vedere fuori dall'ospedale, tipo un piccolo parco, dove lui usciva con i suoi familiari, quando riusciva ancora a camminare, Mi fa sentire nella famiglia, allora, perso la connessione, Alessia e Alessandro, no, purtroppo non conosco molto bene, ok, viventi, entrambi, perso la connessione, Daniel, mio papà ha mancato 14 anni fa di cancro, è diventato nonno di Alessandro, due anni fa, figlio di mio fratello, adoravo il mare, andava, mare, mare, brava, anche quando faceva la chemio, in ogni 21 giorni doveva fare una puntura particolare, curiosa, curioso, lui è diventato nonno di piccolo Alessandro, è affidato per casa da senza direto, un cugino a morte di una, ok, scrivetemi soltanto per favore inerente a quello che io adesso vi sto dicendo, questo, Alessandro, questo signore che è arrivato dal mondo spirituale, mi fa vedere l'anello di matrimonio, quando lui è trapassato, la sua moglie era viva, la sua moglie era viva, e lei, dice che lei andava a pregare, lei andava a pregare, mi sta parlando dei problemi con intestino, di chi, di lui o di moglie, questo non riesco a capire, mi dice che il mare mi ancora fa sentire questo odore di mare perché è importante, è come fosse sono due, lui e la moglie, uno di mare e uno di montagna, ma si vede che sono incontrati quando, non so, provenienti da due città diverse, diversi diciamo, mare, morimanti, eccetera, ok, provate a capire per favore anche questo, poi, questi due nomi che mi hanno detto che può essere importante, non credo che è arrivato qualcuno che proprio sta dando nome, nomi a caso, Alessandro, mi sta parlando che a casa della persona che sta ascoltando, sembra che c'è un gatto, e dice, tu proprio all'inizio della diretta hai detto, attenzione, i gatti che fanno i casini con alberi di Natale, e la persona di qua ha un gatto, ha un gatto, e lui sta dicendo, attenzione, che può fare i casini, chi di voi è questo gatto? Allora che è Sara, conoscevo un Alessandro, morto di cancro, avevo un figlio, ah, questo è già le, mare insieme, avevo la seconda moglie che gli è stato accanto, io ho un gatto, ok, figlio maschio, sì, perché lui dice che è papà, è papà, dicevo che il mio gatto ha rotto albero, ah, eri proprio tu all'inizio che dicevi che è il tuo gatto, ma pensa a te, ok, non mi riguarda, ok, Daniela, tre gatti e cani, non è il papà del mio compagno, un caro saluto, grazie Sonia, Sara, e pensa a te che proprio all'inizio ho proprio, Daniela, io ti ringrazio, ma io sento che non ci sono così tanti animali lì in casa, no, non sento così tanti animali, scusami tanto, Sara, allora come abbiamo cominciato con il gatto sull'albero, così siamo ritrovati, ok, allora, però, però mi è stato dato anche due nomi, prova, non lo so, pensare se magari potrebbe in qualche modo essere legato a quella Alessandro che tu conosci, perché magari tu non sai tutta la sua storia, le persone che conosceva, prova a chiedere perché, perché tu dici conoscevo un Alessandro che è morto di cancro, magari non tutta la storia della sua vita conosce, caso mai, fammi sapere poi perché sono curiosa per arrivare e fare una storia di questo genere. Allora, cara Sara, lui prima di tutto, ti ringrazio perché lo hai riconosciuto, ti sta dicendo, beh, attenzione al gatto, dice, rifai l'albero, ti prega per favore, in quanto è possibile, di portare i suoi saluti al figlio e ai familiari, perché, dice, è un periodo molto speciale, io non so se c'è qualche ricorrenza in famiglia oltre Natale, che adesso ormai siamo qui, però lui ci tiene molto a dirgli che lui le sta vicino e che questa festa, questo periodo, vuole passare insieme a loro, dice che voglio che proprio sentino la mia partecipazione, che non le ho lasciate, che per me sono sempre la famiglia e anche, dice, famiglia allargata, tu hai parlato di due mogli o qualcosa del genere, potrebbe essere chi parla proprio di questo. Augura anche a te buone feste e ti augura ogni felicità e se fai, per favore, questo che sta chiedendo, ti sarà molto grato. Grazie. Ti saluta e ti dice, anche perché lui ti conosceva, ti conosceva e dice che, guarda, sei una brava amica, io non so cosa intende a dire, dice, sei una brava amica. Ok? Bene, bene. Wow! Queste cose qua mi stoppiscono sempre. Sì, lo so che magari qualcuno che sta a casa dice, eh, ma vabbè, ma puoi fare di più con il pendolo, puoi prendere più nomi, essere più precisa. Oh, ragazzi, questo non è come parlare al telefono. Già che riceviamo queste informazioni, è già una grazia divina che ti danno il permesso di fare queste cose. Sara, andrò presto al figlio a trovarlo. Primo di Natale, grazie per questo messaggio. Suo figlio è sempre stato un caro amico per me. Ecco perché. Bene. Non posso accontentare tutti, ragazzi, però, visto che mancano ancora qualche minuto, io sto cercando tra voi una persona che è nata nel giorno 23. 23. Non sento il mese, almeno adesso. Mi sembra che qualcuno di voi che è nato nel giorno 23, mi sembra che sto parlando di primavera. Di primavera. Mi scrivete per favore la data 23 e poi il mese. 23 che cosa? Primavera, però, io sento. Concetta, aspettiamo un attimo perché se qualcuno si riconosce. Primavera, febbraio. No, qualcuno di voi, proprio presenti. Non i vostri, non lo so, familiari. Ok, Rosaria, no, 23 aprile. Di voi. Ragazzi, ascoltatevi chi di voi è nato nel giorno 23 primavera. Allora, Claudia è nato il 23 luglio. Adesso chiedo se è luglio. Ah, la mia figlia è presente. È presente. Ok. È presente. Perciò mi sta ascoltando. 23 aprile mi risuona moltissimo perché è proprio aprile. No, non 20 aprile, non 22 giugno. Ragazzi, no. Sto cercando qualcuno che sta guardando adesso la diretta che è presente. È nato in primavera. Primavera, marzo, aprile, maggio. Ok. Che è presente qui adesso. E tu mi stai dicendo che 23 aprile, Rosaria, mi dici che figlia, 23 aprile, che sta guardando la diretta. Ok. Sì, ti ascolta e guarda. Rosaria, perfetto. Ok. Allora ci siamo perché è proprio preciso. Primavera. Ok. Primavera. Io, 21 aprile. Silvia, doveva? 21, 23. Stiamo cercando 23. Bene, abbiamo trovato. E adesso fai ascoltare per favore questo messaggio da tua figlia. Io non so come si chiama. Mi puoi scrivere per favore, Rosaria, come si chiama la tua figlia che sta ascoltando? Ok. Allora, 23 aprile, 23.04, sto aspettando il nome perché qui per lei c'è la guida. C'è una guida e io devo fare velocemente Maya. Maya. Ma che bel nome. Maya. Allora ascoltami, Maya. C'è per te una guida musicista e sta suonando il violino. Non perché anche tu magari suoni o non suoni, però l'importante è perché si è presentato così. Questa è la sua presentazione. Ok. Amata creatura, bisogna fare qualsiasi cosa con grande accuratezza. Come un musicista che non può stonare neanche una nota. Non può prendere una nota falsa perché se no così tutto il brano sarà da buttare. E allora così diventi professionale. Diventi amata con lei che con il proprio talento, con le proprie capacità, con l'ascolto, con la disciplina, fai suonare qualsiasi cosa che fai nella vita la musica perfetta. E così curi bene i dettagli, ti raccomando. Stai attento a ogni minima nota che devi prendere, il tono della voce e ciò che senti il tuo orecchio, perché anche l'orecchio di un musicista deve essere molto affilato per sentire le note false provenienti dal mondo esterno. Somma amata, suoni in modo onesto. Fai così che la tua vita può essere un gran piacere, un waltzer, per poter danzare con la vita. E non amata, ascoltare quella musica che in qualche modo stona e non va alle tue corde. E in questo vedrai, amata, quanto saresti sincronizzata con questo universo e danzerai insieme alla creazione e ti sentirai di far parte di questo mondo. Fai di te una grande professionista in quello che fai. Non perdere le tue forze e il tuo tempo per le cose inutili. Curi ogni dettaglio e così amata. Adesso suoni, ma poi dopo sarai con lei che dirigi un grande orchestra. Ok. Io spero che questo messaggio può metaforico. Rosaria, la tua figlia ha captato. Maya, caso mai tu le spieghi come stanno le cose. Bene, ragazzi, è stato bello e piacevole con voi questa sera. Abbiamo un po' sperimentato, abbiamo coinvolto il mondo spirituale per giocare un po' con noi. Perciò vi ringrazio tantissimo, ringrazio voi, vi auguro buone feste. E che a casa di ognuno di voi arriva un bel Babbo Natale con un grande pacco dei regali di ciò che vi serve per l'anno prossimo. Non le cavolate, ma pacchettini con amore, sacchettini con gioia, non lo so, le scatole con, non lo so, con piacere. Passate un bel Natale. Buone feste a tutti quanti. Ciao ragazzi. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Grazie.